non si può pensare una chiesa senza gioia e la gioia della chiesa proprio questo annunziare il nome di Gesù dire lui è il Signore mio sposo è il Signore è Dio lui ci salva lui cammina con noi e quella la gioia della chiesa che in questa gioia dispossa diventa madre Paolo VI diceva la gioia della chiesa è proprio evangelizzare andare avanti e parlare del suo sposo e anche trasmettere questa gioia ai figli che lei fa nascere che lei fa crescere